Il collegamento aereo tra la regione Marche e la regione russa di Ekaterinburgo con un volo che quest'estate si svolgerà tutte le settimane e collegherà appunto Falconara. Da qui però bisogna poi arrivare anche a circa 100 km di distanza, cioè nella riviera delle Palme. Ne parliamo con Luciano Pompili, presidente provinciale di Federalberghi. Qual è la situazione eventualmente per un turista che volesse raggiungere San Benedetto? Questo è un problema che noi ci poniamo da un po' di tempo, effettivamente. Positivo il fatto che si aprano nuovi collegamenti aeroportuali con il resto del mondo, il resto d'Europa. Però a nostro giudizio c'è sempre una parte a monte che viene trascurata. Una di queste sono proprio le possibilità che ha l'ospite, una volta sceso all'aeroporto di Falconara, di raggiungere agevolmente la località prescelta. Ora è un problema che dobbiamo porci tutti, in primis abbiamo segnalato questo problema appunto alla regione Marche perché va risolto in un modo o nell'altro. Non possiamo pensare che l'ospite impieghi più tempo da Falconara, una delle località prescelte per la vacanza, di quanto invece ha impiegato da una città europea ad arrivare nelle Marche. Né tanto meno può costare di più di quanto gli è costato il volo in aereo. Per cui è un problema che dobbiamo affrontare assolutamente. Chi dovrebbero essere gli attori che dovrebbero risolvere questo problema? La regione, la provincia, i comuni, le associazioni di imprenditori? Chi? Ma si può fare anche gruppo comune, secondo noi se ognuno mette una sua partecipazione si riesce sicuramente a risolvere il problema. Perché poi l'interesse è di tutto il territorio, dei principali comuni comunque. Ora la regione dovrebbe partecipare in prima battuta ma non di meno l'aeroporto, almeno per quanto riguarda l'organizzazione e sicuramente l'interesse è di tutti quanti noi. Io penso che tutti insieme possiamo certamente risolverlo il problema. Pensiamo addirittura anche a una sorta di noleggio auto low cost per esempio. Si possono sovvenzionare delle compagnie che offrono questo servizio o specie di noleggio auto a modi taxi dove ognuno fa un suo tratto. Sono tanti i modi a dire il vero. L'altro problema invece che ci preme sottolineare è che quando si aprono si intende aprire nuovi mercati bisogna anche essere poi preparati a proporre o a vendere i prodotti turistici per quelle tipologie di clienteva.